Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, anche ai amici di Grazignana che sono venuti qua e ai nostri carissimi ospiti. Oggi ci sarà la festa dei compleanni di questo mese, poi loro faranno gli auguri anche a tutti quelli che comprono gli anni di questo mese. Ringraziamo il nostro consigliore che ci viene della sua spettabilissima presenza. Abbiamo con noi oggi, per chiedere questo pomeriggio, gli amici dell'oratorio di Grazignana che già l'anno scorso sei rispottato e sono venuti qua a farci compagnia. Quindi io non perdo altro tempo. Ringrazio loro di aver portato la loro voce, la loro musica, il loro sorriso in questa giornata, in questo luogo. E buon pomeriggio a tutti, buon divertimento a tutti e grazie ancora a voi. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti. Ringraziamo Giallo, che ringraziamo. Ringraziamo tutti gli ospiti che noi siamo molto onorati e felici di essere qua insieme a voi. Marco e Daniela, come sempre. Tutte le infermieri che insomma fare questo lavoro è sempre difficile. E' sempre che gli anziani vanno accarezzati. Sempre. Buona giornata a tutti. E buon pomeriggio.